Il mio soggetto è di aiutarmi per farmi scegliere. Quando suonare la chitarra, mi spiegavi che puoi giocare la chitarra. Allora io, sì, sì. Ero ansioso e respiravo affannosamente. E Billy Armstrong mi fa, guardami. E poi mi ha spiegato gli accordi e ho cominciato a suonare. Io all'inizio gli ho detto I don't know the lyric of the song perché non sapevo che la canzone che stavo suonando era Knowledge e lui mi ha detto che non dovevo cantare, solamente fare questi tre accordi. Era bellissimo, proprio epico e fantastico. Sapere che adesso te stai suonando e sei te a decidere quando smettere, quando fare un altro accordo. È bellissimo. Sapevo che mi avrebbe detto dopo di saltare, quindi ho saltato direttamente. Sì. 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 Sì.